Sexy sangrati 10 euro durano da due anni Allora Zambo, fai l'ampio Chi è che può tenere la macchina fotografica? Tanto che Zambo lancia Vai Rosy La tablain Te ne sta girando Rosy, vuoi farlo? Sì, sì, sempre Ma in piedi mi sa Rosy Da giù Ah ma così devo tenerla Così? Vabbè mi metto in piedi Ah, ok No ma c'è il culo bagnato Sì, sì eh Benissimo, perfetto Ah ma c'è il culo bagnato Guarda tutte le scatole Oh è tutto a posto sicuro? Sono davvero ansioso al momento Allerone Rudder Sì io spero di lanciarlo giusto Elevator Rudder Motore No, non lanciare giacca Sto facendo le prove Quando vuoi Beautiful and sexy Ah ma c'è il culo bagnato Guarda Ma sì dai un pochettino C'è la macchia? C'è la macchia? Sì ma piccolina Piccola e piccola Roby come prima Metti un timer di 6 minuti Grazie 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 Bello Grazie Grazie Vi Venite Glahi Super ghi via Va a fare Sì Va fai Non riesci a mettere a fuoco, aspetta, eccolo. Ma stai zoomando bene, Capitano? Sì, sì, questo è facile da filmare. Un po' di radar, fatti a fare le curve, vado in la squadra. Aspetta che non lo trovo più, eccolo. Sì, sono infatti, sono le butterbelle. Mi buco al fai. Bello. Adesso faccio un esperimento, prendo la camma di 7. Mi ha fatto il mio letto 11. Arrivo, scendo, vado in via Paoli e ho detto, che ho fatto il mio letto 11. E' un po' tirata. Perché è l'unica coincidenza che posso beccare in tutta la vita. Non c'è nulla. Cioè, per l'orario delle 10 non c'è nulla. Cioè, per l'orario delle 10 non c'è nulla. Cioè, ecco. Cioè, ecco. Oh. Cioè, ecco. 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 Andiamo a terra, allora. 1,2. Beh, comunque io sto facendo un video da 8 minuti adesso. Ah. Tari? Provo. Avanzione al landing. Oh. Oh. Ehi, bravo, non porti un'amera, ma che cazzo ti volevo fatto? Bello, bello, sì Operazione di recupero Guardami, bot! Ah, solo un po' di neve Vediamo se è entrata neve dentro